Professor Vecchiet, sono passate le festività natalizie, oggi riaprono le scuole, da lunedì prossimo a pieno regime, anche con gli studenti delle superiori. Siamo all'inizio dei mesi più freddi della stagione invernale. Quali sono le prospettive di questa pandemia? Qual è la situazione? A livello nazionale mi sembra che i dati sono non così incoraggianti perché c'è di nuovo una ripresa del numero dei contagi. Mi pare che siamo tornati più o meno ai livelli di dicembre. Quindi questo ci pone di fronte a una grandissima attenzione, a dei comportamenti individuali che devono essere molto molto scrupolosi perché è innegabile che oltre a un aumento dei casi, evidentemente per quello che è accaduto nell'immediatezza delle festività natalizie, andiamo ad aggiungere anche un ulteriore fattore confondente che è quello della ripresa della scuola. Quindi è un momento molto delicato a mio parere. Un momento delicato, tra l'altro c'è un po' di preoccupazione soprattutto non tanto per la riapertura in sé delle scuole ma per il fatto dei trasporti, insomma questi studenti che spesso usano mezzi pubblici per arrivare a scuola. Guardi, questa è una riflessione che io condivido perché se noi ragioniamo in termini assoluti direi che la scuola ha dato garanzie di tracciamento, di sicurezza nei protocolli, ma se ragioniamo in termini comparativi, cioè in un sistema di insieme, la scuola entra in un contesto molto più ampio che può rappresentare una criticità e quindi è chiaro che questa è una cosa su cui bisogna tenere ben conto. I virus di per sé, in particolare questo, ha la caratteristica intrinseca di mutare. Di mutazioni più o meno importanti ne sono state trovate cinque e credo che saranno le prime di una lunga serie di mutazioni. Sono ipotesi queste che possano avere una maggiore aggressività ma non così localizzata, cioè non così settorializzata rispetto all'età. È un virus che circola con maggiore facilità tra la popolazione. Vaccinarsi è importantissimo, devo dire che è stata messa in piedi una macchina organizzativa molto complessa, i numeri sono elevatissimi e quindi è chiaro che tutto questo non lo si farà in poco tempo. Credo che questo, come tanti altri virus, verrà sconfitto proprio grazie alla vaccinazione e in particolare alla vaccinazione di massa. Rispetto alle persone che hanno dei dubbi, direi che già ad oggi, visto che nel mondo sono state vaccinate più di 10 milioni di persone, possiamo dire che non ci sono stati grossi effetti collaterali, anzi direi praticamente nessun effetto collaterale. Quindi se il timore è sulla non sicurezza di questo vaccino, lo abbiamo già visto che non è così. Rispetto all'efficacia, gli studi che sono stati prodotti e che poi hanno dato origine alle autorizzazioni delle autorità regolative, dimostrano che invece ha una buona efficacia, quindi non c'è nessun motivo per non vaccinarsi.